eccolo qua sclavier ha 33 anni e li porta bene sclavier quella volta è stata una genialata di yamaha una genialata vera e propria perché 33 anni fa creare qualcosa che non esisteva se non nella fantasia è stato qualcosa di eccezionale ovviamente di sclavier ai suoi anni e come tutti gli anzianotti funziona con questi che molti di voi non sapranno neppure cosa sono perché sono molto più giovani di sclavier allora che dire io questo piano ce l'ho da 33 anni ci ho registrato tantissima musica continuerò a farlo e spero che duri ancora tanto 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 anche perché questo è stato il primo modello realizzato e siccome ci sono molto affezionato mi dispiacerebbe che non stesse proprio di me quindi tanti auguroni caro di sclavier e con tanta buona musica ancora amici vi saluto un salutone a tutti mi raccomando non abbandonate le vostre passioni musica ancora amici musica ancora amici musica ancora amici musica ancora amici